La Sardegna. Chiedo al deputato Salvatore Deida se intende illustrare la sua interpellanza o si riservi di intervenire in sede di replica. Illustra? A lei la parola al deputato Deida. Grazie Presidente, grazie anche al sottosegretario perché si è preso anche l'onere di tante materie che non sono di sede di competenza rispettando quelle che sono le prerogative dei deputati e anche dell'opposizione. Come sa la Sardegna un'isola e purtroppo per noi la continuità territoriale sia marittima che aerea non è tanto un vezzo ma è una necessità. Una necessità che purtroppo da decenni viviamo non come un servizio adeguato per le esigenze dei sardi ma anche di tutti gli italiani e di chi vive nel continente purtroppo noi viviamo una situazione in cui le famiglie non possono viaggiare tranquillamente, i lavoratori non possono viaggiare tranquillamente tanto che gli autotrasportatori denunciano da tempo che le tariffe sono sempre in aumento e soprattutto non ci sono gli spazi necessari per gli autotrasportatori risardi che devono raggiungere Livorno o le altre mete. In più qual è il problema? Il problema è che il luglio 2020 scade la convenzione con quello che oggi è il gestore della continuità, questo è il consorso di navigazione Tirrenia e Mobi che riceve il finanziamento pubblico per gestire questa tratta secondo le normative europee e secondo quanto prevede anche la normativa nazionale e in teoria noi vorremmo sapere, ci sono gli appelli della Regione Sardegna, ci sono gli appelli di diverse entità economiche perché intorno a tutta questa vicenda c'è il silenzio, addirittura non si può prenotare per il prossimo anno, ci sono delle industrie tipo quella delle cave di sabbia che hanno paura e denunciano che il settore potrebbe perdere 500 lavoratori perché non hanno la certezza di come trasportare la materia prima in continente ma soprattutto le strutture alberghiere non possono programmare il proprio calendario turistico perché non è possibile prenotare o programmare quello che succederà nella prossima estate, da giugno fino ad agosto o settembre. Ma parliamo anche delle famiglie, parliamo di quelle sardi, in Italia ci sono centinaia di migliaia di emigrati sardi che dovrebbero rientrare nei propri paesi d'origine con l'auto, denunciano che è più facile andare in Francia, poi raggiungere la Corsica e poi giungere in Sardegna che è tanto che invece fare la tratta quella più comoda, Genova Porto Torres, Livorno Olbia, Civitavecchia Cagliari che a volte raggiunge prezzi inaccessibili per le tasche di una famiglia normale. È possibile continuare così? No, abbiamo usato lo strumento di interpellanza urgente perché noi non abbiamo mai avuto risposte da parte del governo, ci sono state interrogazioni da parte di altri colleghi che non hanno ricevuto risposta, la Regione Sardegna non ha mai ricevuto risposta per essere convocati in un tavolo ed è per quello che noi come Fratelli d'Italia abbiamo usato questo strumento per avere un segnale dal governo. Cosa succede nel prossimo anno? Ci sarà una nuova gara, a quanto pare l'autorità sulla concorrenza esclude che ci possa essere una proroga di questa del servizio. Allora, se c'è bisogno di una nuova gara, cosa si aspetta a convocare la Regione Sardegna per capire se questo modello va bene? Esiste un modello francese che viene utilizzato in Corsica dove non c'è l'IVA, ovviamente sui biglietti, ma dove si dimezza il prezzo del 50% a chi è ovviamente residente in Corsica ma anche agli altri che ricevono un rimborso su quella che è la compagnia di navigazione. Ma c'è il modello spagnolo che funziona, che funziona meglio di quello sicuramente di quello che oggi vige in Italia ed è per questo che noi ci appelliamo ancora una volta perché si è convocato un tavolo con la Regione Sardegna e ci sia finalmente chiarezza su quello che è il modello di continuità marittima. Mi sarei aspettato ovviamente una risposta del Ministero dei Trasporti che in questo sia nella continuità marittima che nella continuità aerea sta lasciando da sola la Sardegna ed è questo un fatto inaccettabile perché ribadisco, per noi è un servizio fondamentale, da lì passa il vivere bene di chi è residente in Sardegna, passa la nostra economia qualunque, l'economia turistica, l'economia dei trasporti, l'economia dei mezzi, l'economia di chi vuole cercare di commerciare con la nostra isola. Già il nome stesso, siamo un'isola, soffriamo questo isolamento dovuto a un sistema che non funziona, è costoso perché ripeto, se costa di più venire in Sardegna che andare in Grecia, in Corsica o in qualunque altro Stato estero, allora vuol dire che lo Stato ci sta veramente abbandonando. Grazie. Il senale per la vigilanza sulle autorità portuali, infrastrutture portuali e del trasporto marittimo per vie d'acqua interne rappresenta quanto segue. Per l'esercizio dei trasporti marittimi in regime di pubblico servizio con le isole maggiori e minori è attualmente vigente la Convenzione numero 54 stipulata il 18 luglio 2012 tra il Ministero per le Infrastrutture di Trasporti della Compagnia Italiana di Navigazione per la durata di 8 anni con scadenza 18 luglio 2020. L'articolo 7 della società da Convenzione individua il corrispettivo per i servizi sovvenzionati svolti dalla Compagnia Italiana di Navigazione in circa 72,68 milioni di Euro all'anno per ciascuna degli 8 anni di durata della stessa Convenzione. La continuità territoriale con la Sardegna è garantita dalle linee passeggeri merci di Genova Porto Torres, Civitavecchia Olbia, Genova Olbia Cagliari Palermo, Civitavecchia Cagliari Arbatax e Napoli Cagliari. I collegamenti sono attualmente in regolare svolgimento e la Compagnia accetta prenotazioni per tutta l'estate 2020. La scadenza contrattuale del 18 luglio 2020 ha richiesto l'attivazione da parte del Ministero delle procedure per la riassegnazione dei servizi di trasporto marittimo con le isole maggiori e minori nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. Il 20 giugno del 2019 il Ministero ha comunicato alla società esercente Compagnia Italiana di Navigazione l'avvio della procedura di riaffidamento del nuovo servizio e quindi la cessazione della Convenzione alla scadenza contrattuale. Ai fini della pubblicazione del bando di gara deve essere effettuata una specifica attività istruttoria in corso di svolgimento che tenga conto sia del contenuto della delibera dell'autorità di regolazione dei trasporti 2219 che ha per la prima volta disciplinato la singola fase dell'affidamento sia della normativa europea disciplina 2012 barra C 8 barra 03 decisione 2012 21 sui servizi di interesse economico generale. A seguito delle diverse interlocuzioni con il Ministero la Commissione europea ha già assegnato un codice di prenotifica al caso al fine di verificare l'assenza di aiuti di Stato nella procedura in atto. Analoghe interlocuzioni sono in corso con l'ART l'autorità di regolazione del trasporto trattandosi come detto della prima applicazione della delibera 2219. Come indicato dalla stessa delibera l'assegnazione dei servizi di trasporto marittimo deve infatti inseguire quattro macro fasi. Fase propedeutica di verifica del mercato, procedura di impostazione di obblighi di servizio pubblico, fase di gara per l'assegnazione in esclusiva del servizio, fase di stipula della convenzione e gestione della stessa nella fase esecutiva. La fase propedeutica numero uno per l'affidamento del servizio è volta ad accertare in base ai principi comunitari sulla liberalizzazione del cabottaggio marittimo la sufficienza dei servizi di trasporto regolare. Comunicazione sull'interpretazione del regolamento CE. La Direzione Generale del MIT ha già concluso l'analisi dei dati dell'offerta relativi al traffico delle merci e di persone nei porti di origine e destinazione delle linee attualmente esercite sulla base delle informazioni acquisite tramite l'autorità di sistema portuale competente, le direzioni marittime, le capitanerie dei porti e le società operanti. Inoltre, da più di un anno è in corso un costante confronto con i competenti uffici della Regione Autonoma Sardegna per analizzare la domanda di mobilità marittima e per l'individuazione delle rotte. La Regione infatti saranno parte attiva le Regioni dei complessi passaggi per la definizione del quadro servizi marittimi e sono già programmati appositi incontri con la Regione Sardegna per acquisire elementi per la verifica del mercato. Questa verifica che consiste nel mettere a consultazione pubblica nell'analisi dei dati relativi alle esigenze del servizio pubblico individuato deve appurare la distribuzione temporale e spaziale della potenziale domanda e rilevare le motivazioni di viaggio, le caratteristiche socio-economiche, demografiche e comportamentali, ciò al fine di verificare la sussistenza di un interesse economico degli operatori di mercato alla fornitura del servizio nella sua dimensione ottima minima di produzione in libero mercato. Si procederà quindi ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte delle imprese che posseggono i requisiti per l'esercizio dei servizi previsti e che siano nelle condizioni di presentare un'offerta con riferimento in particolare alla proprietà e disponibilità dei mezzi navali richiesti. Dalla verifica scaturiscono tre possibili scenari previsti dalla delibera dell'autorità di regolazione del trasporto. 1. La piena disponibilità degli operatori ad assicurare il servizio in regime di libero mercato senza contributo. 2. La parziale disponibilità degli operatori ad assicurare il servizio in regime di libero mercato con necessità di sovvenzione per mantenere l'equilibrio economico finanziario. 3. L'assenza di offerte a svolgere il servizio in mancanza di sovvenzione pubblica. Solo in caso di esito negativo della manifestazione di interesse il MIT dovrà procedere all'imposizione di obblighi di servizio o all'assegnazione del servizio con contratto di servizio pubblico attraverso l'espletamento di una gara pubblica. Per quanto detto la procedura che non consiste nella sola pubblicazione del bando di gara è già stata avviata. Grazie Presidente. Continuando a ringraziare il Sottosegretario Morassut per la disponibilità a leggere e rappresentare il governo in questa difficile materia. Certo, ripeto, avrei preferito non per nulla togliere il Sottosegretario parlare con chi è dei trasporti, con chi è la materia dei trasporti. Perché noi non riusciamo a parlarci con il Ministero dei Trasporti, con il Ministro dei Trasporti su una materia così delicata come la continuità marittima che lede un diritto sacrosanto di noi sardi ma di tutti gli italiani che vogliono essere collegati con la Sardegna o che vogliono venire in Sardegna. Non ci si può nascondere dietro la grande burocrazia europea sulla libera concorrenza o sul fatto o nascondendosi dietro che di fatto in questi anni di questa convenzione in essere c'è un monopolio che è dettato dalla compagnia di navigazione che è tirrenia e mobi che appartengono ad un unico proprietario o non sapere che bisogna per modificare una condizione che non rende così vantaggiose usufruire di quel servizio di navigazione o offrire un servizio di navigazione per la Sardegna, quindi obbligare lo Stato a investire una somma per incentivare le compagnie a offrire un servizio pubblico. Si sa che c'è bisogno di una modifica, lo studio di un nuovo modello di continuità marittimo. Come ho detto si potrebbe copiare il modello francese perché ripeto per chi è in continente, cioè con chi è in Italia, nel continente italico, è più conveniente a volte andare in Francia, dall'Italia andare in Francia, raggiungere la Corsica e poi andare in Sardegna. Cioè fare un giro completamente di gran lunga, molto più lungo e più economico a volte d'estate che venire da Civitavecchia a Roma o Civitavecchia a Olbia o Genova Porto Torres. Noi non sappiamo niente di cosa sta facendo il Ministero. In Sardegna non si ha notizia. Perché non è vero che se l'assessore ha più volte dichiarato anche pubblicamente senza poi essere smentito che sta provando a parlare col Ministro o sta provando a interfacciarsi col Ministro, allora c'è qualcuno o se non viene smentito nella stampa più volte rimarcato, allora vuol dire che qualcosa di vero c'è, cioè che non sta venendo contattato o non riesce a contattare il Ministero. Soprattutto perché è impossibile imporre un modello di continuità senza che i sardi abbiano la minima conoscenza di quel sistema, visto che sono gli usufruitori principali. Dobbiamo cercare un attimo di avere chiarezza su quello che sarà il nostro destino. Perché ripeto, una compagnia che tratta le sabbie per le ceramiche di tutta Italia ha già denunciato che non può lavorare il prossimo anno senza sapere che modello di continuità ci sarà. E ha già annunciato di mettere in mobilità o il pericolo i 500 possi di lavoro. Le strutture alberghiere non possono prenotare per luglio o per agosto perché non ci sono i biglietti e i pacchetti vanno preparati adesso del turismo per preparare la stagione in maniera adeguata. Soprattutto non si possono applicare gli sconti perché, come succede nelle compagnie low cost, se prima prenoti magari risparmi qualcosa. Adesso è impossibile farlo. Allora, noi a quale santo dobbiamo appellarci affinché il Ministero consideri la Regione Sardegna? Non lo sappiamo più perché anche l'interpellanza urgente, che era l'unico modo per avere una risposta certa, visto che le interrogazioni a risposta scritta sono ignorate dal Governo, era l'unico modo e purtroppo ci arriva un dettagliato elenco di tutta quella che è la questione burocratica ma non una risposta politica per dirci che noi abbiamo in mente questo modello di continuità. Si continua col vecchio sistema, non sappiamo ad oggi che cosa succederà domani, non sappiamo cosa succederà in quest'estate. Allora, devo dire che purtroppo dovremmo mobilitare tutti i sardi, perché non è una questione ideologica, non è una questione che di maggioranza opposizione, ma qui è una battaglia dove tutti i sardi devono reclamare chiarezza, devono reclamare i propri diritti e devono reclamare sicuramente quella pari dignità di potersi muovere senza avere un cappio al collo di tipo economico e di tipo anche che a volte molto spesso quelle navi che vengono utilizzate per il servizio non sono proprio il massimo del comfort. E ripeto, ci sono lavoratori, autotrasportatori che spesso non trovano posto perché vengono privilegiati anche e soprattutto trasportatori che sono o stranieri o provenienti da altre regioni d'Italia. Quindi, per cortesia, gli esponenti e il governo trasmettono ai colleghi dei trasporti che, se non sono in grado di offrire e dare udienza ai rappresentanti della Sardegna, forse è meglio che lo dicano chiaramente senza nascondersi e senza fuggire dal confronto. Grazie.